Allora signore e signore, siamo io in Margherita, siamo a Napoli, siamo in missione speciale. Toccheremo l'acqua del mare e mamma non saprà niente. Andiamo, allora. It's not my side. And if you turn to me like a world it takes to me. And I join the night. And I dance like the keys in the eyes. And rest of our lives. Questa è l'acqua, non posso non capire a mare però. Ma com'è? Aspetta, andai qua. Allora. Accordaci questa tua missione, missione compiuta, fai lì la mano bagnata. Questa è la mano bagnata, e com'è l'acqua? È la fletta. Ok, allora possiamo andare a casa dicendo missione compiuta. Andiamo. Missione compiuta. Questa è l'acqua, non posso non capire a casa. Questa è l'acqua.